Recraud nasce per offrire al popolo di risparmiatori un modo alternativo di investire i propri risparmi digitalizzando e semplificando il processo di investimento attraverso il lending crowdfunding ed utilizzando un asset di facile comprensione come quello immobiliare. La nostra piattaforma dà quindi l'opportunità di investire nel settore immobiliare anche a chi non dispone di grandi capitali, prestando il proprio denaro ad un tasso definito a priori. Dall'altro lato offre alle aziende che operano nel settore immobiliare una soluzione veloce e sicura per raccogliere fondi e gestire facilmente tutta la parte burocratica legata al singolo progetto immobiliare. Principalmente lavoriamo con aziende che operano sul settore italiano, cui diamo la possibilità di scegliere quattro tipologie di progetto da poter presentare agli investitori presenti in piattaforma. Queste tipologie si differenziano per rischio, capitale minimo, durata e rendimento, per valorizzare al meglio i capitali degli investitori e adattarsi il più possibile ai loro profili di rischio. Recloud è la prima piattaforma di crowdfunding immobiliare ad aver inserito un modulo di trattativa personalizzata, il quale permette di far negoziare il tasso a cui si presta denaro direttamente tra l'azienda che propone il progetto e l'utente investitore iscritto in piattaforma. Siamo un'azienda molto giovane, costituita come startup innovativa nell'ottobre 2018 e per finanziare le attività dei primi 24 mesi abbiamo lanciato una campagna di equity crowdfunding a marzo 2019 dove abbiamo raccolto 418.000 euro cedendo il 12% delle nostre quote societarie. Questo ci ha permesso di comporre un team under 30 di 6 persone che tutti i giorni si interfaccia con i referenti delle aziende per strutturare al meglio tutti i processi legati alle campagne di crowdfunding che verranno poi presentate sulla nostra piattaforma. Ci siamo collocati in un mercato in forte crescita con il timing giusto, gli investitori della nostra piattaforma crescono mensilmente e riscontriamo sempre più consapevolezza e fiducia nella possibilità che il crowdfunding offre abbinato a questo settore. Siamo agli inizi ma i presupposti sono più che buoni.